I can't love ever love me Oh 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 Cause you can't do it for tonight Bello ragazzi, benvenuti in questo quinto episodio di Squadra Malate E oggi siamo qui nello speciale del quinto episodio E come avevamo annunciato io Stefano Bella Che appunto sarebbe stato diverso Adesso vi spiegheremo mentre suoniamo in Squadra Allora facciamo casuale No, Inghilterra troppo forti No Rangers, io faccio Rangers Ok vai partiamo subito Madonna E ragazzi praticamente abbiamo messo tutte le imposte Velocità tiro, velocità scatto, accelerazione tutto a 100 Così sembreranno dei super pro player Ma vedrete nella partita come vi accorgerete che sarà un po' diverso dal solito Guardiamo, cioè Fermatelo Eh, ma dai Io lo tento da centrocampo Oh 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 Non abbiamo visto neanche noi Sì e hai portieri Eh, non puoi dirlo te, vabbè Vabbè sì I portieri I portieri sono Anche se sta riuscendo comunque Ma dai, ma dai, ma dai Calia lì E io riprovo il tiro da centrocamp Ok Non ci proverò Non ci proverò Ecco Poi Ci sarà anche il problema Abbiamo anche aumentato la velocità di passaggi Ma perché la palla si è bloccata? Oh no Ho colpito Ecco Qua il giocatore Molto probabilmente Sì Infermabile Divertente Oh yeah Oh Oh Normalmente Tenta il tiro da qua Oh Stava entrando Mischia di nuovo metallare Cosa 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 Il portiere Il portiere No, no Era la riguarda Il portiere si è buttato Che la palla Era già Stam parlando Il portiere Il portiere Se la prendeva Era meglio Quando la prendeva Se no Gli spaccava la gamba Il portiere Il portiere Il portiere Il portiere Ha fatto così Con la testa No No Il portiere Stai verso l'unione Tutto il corizzontale Oh Oh Di te Cioè Leggi le statistiche Il giocatore Che farsa Tira Oh Che gol Che gol Si blocca Non gioca No Quanto è bello sto gol Come ha fatto Come ha fatto Deve giudici dei poveri Deve giudici dei poveri Guarda Non si vede la palla Oddio Bello Che gol ha fatto Mani Come ha fatto Acrobaccia Perché Ma basta Ma basta Deve giudici dei poveri Oh Madà Girlfriend Che buon Immenso Luigi Leopardo Si ma Ecco il pitatemi Ma che Ma che Ma non è possibile Che Che Ma che Deve giudici dei poveri Bars A volte Risultanza Con il fumo Di tirare Eh vabbè Il portiere Gran che time Aspetto Tiro da lì Goal Cade un giocatore Ma dai Ma non c'era il ballo Dove sei solo rialzato Ha dato le braccia Ha dato le braccia Ma è vabbè Zazza dei poveri Non è una modalità Ovviamente Che cazzo fa Hai bisogno Non ho potuto schivarla Da troppo veloce Mega Non ce la faccio Mega Rissa Mega Non ce la faccio Mega Rissa Si è spacciato Il braccio Guarda La faccia è il viso La faccia è il viso La mano Mischia Perché cosa è successo Ma che Cavolo Non ci credo Mischia Cosa fa Era fuori di 3 metri Però Tutti che si fanno male Sta cagando Aspetta Aspetta che Devo finire Ok ragazzi Se vi è piaciuto Il quinto episodio Su questa serie Devo dire Troppo divertente Lasciate un bel like Commentate Noi ci vediamo al prossimo video Bella Bella